Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora oggi un nuovo video è un video get ready with me dove provo questo fondotinta qua perché una ragazza serena ci ha dato un bacio finalmente ecco il video che lei voleva vedere un get ready with me con questo fondotinta qua che ho preso dei cinesi che è il fondotinta della whiny luxury questo qua metto a fuoco questo qui insomma è molto molto chiaro allora serena io già questo l'ho provato mi ci sono trovata veramente veramente bene che pare che il fondotinta manco ce l'ho anche il viso nel senso perché comunque è molto molto simile alla mia pelle molto molto chiaro mi sono trovata veramente veramente bene perché comunque copre quello che deve coprire in più anche perché comunque è uguale alla mia pelle e niente quindi faccio questo get ready with me dato che oggi sabato quindi si esce come sapete ormai tutti i fini settimana vado su da Roberto del mio ragazzo e quindi ci sta questa bella truccatina insomma ecco dato che andiamo in giro niente adesso vi lascio al video di questo get ready with me con questo fondotinta così lo proviamo cioè lo riprovo io però lo proviamo insieme nel senso che comunque non l'avete visto com'è quindi ok e niente ci vediamo Musica 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 Grazie a tutti. 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 E' perfetto questo fondotinta. E quindi a me personalmente piace veramente tanto Serena. Fammi sapere sotto nei commenti poi cosa ne pensi di questo fondotinta, se vedete. Ok, questo qui quindi è il trucco di oggi. Lo faccio rivedere che poi l'avete visto prima in orientatore. E niente, spero che questo trucco vi sia piaciuto. E anche il fondotinta, visto che ci siamo e stiamo in tema. se il video, se vi è piaciuto, se vi è piaciato in tema, se vi è piacere, ciò che vi è piacere, se vi è piacere. E noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Un bacio. Grazie.